Allora, buongiorno, siamo qui con la dottoressa Elena Santini, che è la responsabile della senologia per immagini dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata e insieme al dottor Fortunato ha partecipato alla conferenza sabato 4 aprile a liceo Augusto, in cui appunto si è parlato di tumore al seno. Intanto vogliamo chiederle come prima domanda quali possono essere i fattori di rischio per il tumore della mammella, in particolare nelle persone giovani? Buongiorno, io ringrazio per la domanda, perché è interessante, i fattori di rischio per la mammella sono conosciuti ormai da tempo. Iniziamo a parlare dell'età, il tumore mammario a partire dall'età fertile aumenta di frequenza, raddoppia circa ogni decade, quindi col passare degli anni l'incidenza di tumore mammario aumenta. Molto importante poi è la familiarità e la genetica. Relativamente alla genetica in questi ultimi anni sono stati scoperti alcuni geni, in particolare due, che si chiamano i BCRA1 e BCRA2, la cui mutazione che si trasmette di generazione in generazione si accompagna ad un aumentato rischio di tumore mammario. E poi la familiarità, la presenza nell'ambito di una famiglia di una donna portatrice di tumore mammario si accompagna ad un incremento di incidenza per le consanguinee. Altri fattori di rischio importanti sono rappresentati dallo stile di vita. Noi sappiamo che un'alimentazione ricca in frutta, verdura e accompagnata da una giusta attività fisica sembrerebbero correlarsi ad una riduzione di incidenza di tumore mammario, mentre al contrario uno stile di vita improntato ad abuso di alcol, di fumo, di proteine animali si accompagnerebbe ad un incremento della stessa patologia. E così anche l'obesità o il sovrappreso in menopausa. Un'altra cosa importante sempre relativamente alla donna è il fattore ormonale, il fattore estrogeni. È stato notato come donne che hanno una menarca precoce, quindi una prima messuazione in età molto giovane e una menopausa tardiva sono caratterizzate da un aumento di rischio di tumore mammario. Questo in rapporto alla presenza di estrogeni per i quali alcuni tipi di tumore soprattutto sono sensibili. Una donna che abbia una menarca precoce e una menopausa tardiva è esposta per molti anni della sua vita ai suoi estrogeni e quindi ha un aumentato rischio di patologia alla mammella. Quale tipo di diagnostica in questo campo va adottata per i giovani, nelle persone giovani? Certo, al di sotto dei 30-35 anni la valutazione della mammella è una valutazione prevalentemente clinica, quindi fondamentale è la palpazione, l'ispezione che il clinico effettua sulla mammella femminile. E l'indagine di prima scelta in questa fase precoce della vita, quindi in età giovenile, è sicuramente l'ecografia. Per vari motivi l'ecografia non fa uso di radiazioni ionizzanti, quindi è una tecnica ripetibile ogni qual volta sia opportuno. È una tecnica non invasiva, quindi ben tollerata da chiunque la esegua. Abbiamo una discrita diffusione di ecografi sul territorio nazionale e soprattutto si caratterizza per alcune specialità. Infatti l'ecografia ci consente uno studio ottimale della mammella giovanile, che è una mammella densa, una mammella piena di ghiandola, dove l'ecografia può evidenziare eventuali patologie presenti. In particolare l'ecografia può distinguere le lesioni solide da quelle liquide. Quindi la lesione liquida per eccellenza è la cisti, che è una patologia benigna molto frequente nelle donne giovani, e la formazione nodulare solida è il fibroadenoma, altra patologia molto frequente nelle donne giovani. Ecco, l'ecografia è in grado di documentare la presenza di queste patologie e dare indicazioni precise sulla natura di queste patologie. Nello stesso tempo, nell'ambito dei noduli solidi, l'ecografia è in grado di distinguere o almeno di dare indicazioni piuttosto precise sulla natura benigna, come nel caso del fibroadenoma, o eventualmente sulla natura maligna della lesione, che, sebbene piuttosto rara nelle persone giovani, è sempre da escludere a priori. Allora, durante la conferenza di sabato scorso lei ha dovuto affrontare un tema come quello del tumore al seno con un pubblico giovane. Quanto può essere difficile parlare di una cosa del genere ad un pubblico del genere e come lei ha pensato di affrontarlo? All'inizio della conferenza io ho ringraziato. Ho ringraziato per l'invito che mi è stato fatto, perché ho ringraziato per la stima nei confronti della mia persona, ma soprattutto per l'intelligenza di aver organizzato e per la lungimiranza per aver organizzato un incontro di questo genere. Perché è proprio a persone giovani, a donne giovani in particolare, che noi dobbiamo parlare del tumore della mammella. Perché proprio nel corso della conferenza è emerso come la carta vincente che noi abbiamo in questo tipo di patologia è la diagnosi precoce. E la diagnosi precoce noi la facciamo se la conosciamo. Quindi abbiamo insistito molto nel corso della conferenza su questo aspetto, indicando appunto quali erano le metodiche da effettuarsi in fase giovanile. Abbiamo parlato dell'ecografia e poi abbiamo anche parlato della mammografia a partire da una certa età in poi, dando anche le indicazioni per ciascuna metodica. Quindi io sono stata contenta dell'invito e reputo fondamentale che questi incontri vi siano, che si ripetano e che si allarghi ancora di più. Perché è solo la conoscenza che ci metterà al riparo dall'ignorare il problema tumore. Vincerà il tumore se non lo conosciamo, altrimenti sicuramente avremo la meglio se riusciremo a fare un trattamento quanto più precoce possibile. Allora, siamo qui col dottor Lucio Fortunato, responsabile dell'unità operativa di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata. Anche lui ha partecipato alla conferenza di sabato 4 aprile al liceo Augusto e volevamo fare anche a lui qualche domanda sul tumore al seno. In primo luogo, una domanda che è stata fatta da molti ragazzi che hanno assistito alla conferenza, nell'ambito della prevenzione qual è l'importanza dell'autopalpazione? Sicuramente è un elemento abbastanza importante, anche se non determinante. L'elemento più importante è quello dei controlli sinologici con la mammografia a partire dai 40 anni e con l'ecografia mammaria a partire forse qualche anno prima. Però la palpazione, l'autopalpazione è importante perché in questo modo la donna riesce a essere la maggiore esperta della propria mammella perché sentendo anche le proprie irregolarità a seconda del ciclo mestruale evidentemente riesce poi a identificare delle anomalie rispetto agli esami precedenti e quindi successivamente a rivolgersi da uno specialista. Quindi è qualcosa che non è estremamente importante nell'ambito della prevenzione e soprattutto della diagnosi precoce dei tumori. Non è sufficiente però certamente lo consigliamo ed è una cosa che consigliamo a tutte le donne di fare. Un'altra domanda che è stata fatta da coloro che hanno assistito alla conferenza. Che incidenza possono avere eventuali urti al seno oppure l'uso di tipi diversi di reggiseno sul tumore? Beh, questo è molto semplice. Nessuna. Nessuna incidenza, non c'è nessuna relazione. I tumori della mammella sono stati studiati un po' in tutto il mondo in tantissimi modi. Sappiamo adesso molte, molte cose. Sappiamo anche, per esempio, che c'è una certa correlazione tra la dieta, per esempio, o il sovrappeso, per esempio, e i tumori della mammella. Piccola, ma c'è. Sappiamo che c'è un'incidenza tra gli ormoni, per esempio gli estrogeni o la pillola anticoncezionale e il tumore della mammella. Non è elevatissima, ma c'è. Sappiamo che c'è un'incidenza della familiarità nei tumori della mammella o nelle donne che non hanno avuto figli o un inizio del proprio ciclo mestruale precoce e una fine interdiva. O che non hanno avuto bambini, perché quando le donne hanno bambini hanno un sconvolgimento ormonale e soprattutto la mammella viene preparata per l'allattamento e poi va, tra virgolette, le cellule duttali vanno, tra virgolette, in disfacimento alla fine dell'allattamento e quindi questo rigenera delle nuove cellule duttali. Tutti questi elementi, se ci sono, possono essere in correlazione con aumentare l'incidenza dei tumori della mammella, ma il reggiseno e il tipo di reggiseno no e le botte no. È vero che ogni tanto succede che qualcuno prende una botta, si sente un nodulino e vado al medico, ma questo è soltanto un evento fortuito. Nella conferenza di sabato lei ha dovuto affrontare un tema comunque complicato e difficile davanti ad un pubblico giovane. Che tipo di approccio ha usato e quali difficoltà secondo lei si incontrano in una situazione del genere? Io non ho trovato particolari difficoltà perché è stata una cosa che mi è piaciuta moltissimo e che mi ha aiutato. Anche a capire come si spiegano certe cose, perché uno dei lavori che noi abbiamo è non soltanto quello di capire noi alcune cose, ma di cercare di farle capire agli altri. Quindi è stata una bellissima esperienza e anzi penso che gente che lavora in ospedale, in un ospedale molto importante, che fa attività anche abbastanza importanti come le facciamo noi a San Giovanni, dovrebbe sempre di più uscire dal proprio ospedale e rivolgersi a gruppi come i vostri. Per me è stata un'esperienza molto bella e ho cercato di fare una storia un po' lunga, però una storia interessante partendo da quello che è stato il padre della chirurgia della mammella, questo Alstead, 100 e passa anni fa, alla storia attuale. Perché anche se parliamo di tumori, la storia di questo tumore della mammella è una storia molto positiva, anche se ha avuto tanti incidenti, tanti feriti e tanti morti, purtroppo è lì a tutt'ora. Però è una storia molto bella, perché è una storia che va verso la vittoria ed è la storia del primo tumore che sarà sempre guaribile, primo tumore solido, sempre guaribile, tra, riteniamo abbastanza breve, forse fra 10-20 anni, ma ci si arriverà e sarà il primo tumore sempre trattabile, sempre guaribile. Quindi è una storia che ha anche una fine positiva.